Atmosfere esotiche, sognanti e nostalgiche. Dal 31 ottobre al 28 febbraio 2016, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato di Pordenone si trasformerà in un viaggio nel sollevante. La storica Villa Galvani, all'interno dell'omonimo parco, ospiterà Yume, Sogni Giapponesi, un percorso di 90 fotografie giapponesi originali del XIX secolo. Magda Di Siena, curatrice della mostra. Come nascono questi sogni giapponesi? L'idea della mostra nasce dalla volontà di mettere in risalto un aspetto molto particolare della fotografia giapponese, che è questa dimensione sognata. Queste fotografie infatti vengono realizzate con una particolare tecnica, che è la colorazione a mano dell'albumina. Questo aspetto era possibile in Giappone perché queste fotografie derivano dalle stampe, dalle famosissime stampe giapponesi, che sono le ukiyo, le famose stampe relative al mondo fluttuante. Praticamente i fotografi che lavoravano in Giappone si trovarono a collaborare con i coloristi che erano già abituati a colorare le stampe giapponesi. Per cui in Giappone questa particolare qualità della fotografia venne fuori con maggiore risalto. Claudio Cataruzza, prosegue l'attenzione da parte del Comune di Pordenone alla cultura giapponese? Sì, dopo le iniziative che abbiamo fatto negli scorsi anni, che avevano trovato un punto importante con i campionati mondiali di judoka Takui a Pordenone, oltre con la mostra dei patrimoni UNESCO giapponese e tutta una serie di incontri con l'ambasciata giapponese, questa è un'occasione anche per rafforzare un importante legame con la città di Okawa, con cui Pordenone è gemellata e quindi siamo particolarmente felici che questa mostra abbia potuto trovare realizzazione e quindi ci auguriamo che venga anche apprezzata dal pubblico.